La mia passione per l'arpa nasce all'età di 7 anni, quando la vedo in un concerto e l'ascolto per la prima volta, ascolto questo suono meraviglioso e avvolgente che mi conquista subito. Dopodiché ho iniziato a prendere le prime lezioni private e poi sono entrata in conservatorio. La mia giornata tipo era la mattina a scuola e il pomeriggio in conservatorio e poi tornavo a casa per fare i compiti, quindi andavo a letto davvero tardi. Lo scorso 31 marzo ho vinto il primo posto all'International Art Contest in Israele. Vincere un premio del genere è un po' vincere un oro olimpico. Essendosi preparati in un modo così meticoloso per due anni, tre anni, dipende, non si realizza subito una roba del genere. Infatti ci ho messo un po' per realizzare, ma poi... Questa competizione si svolge a cadenza triennale ed erano 21 anni che non vinceva un'italiana. La cerimonia di premiazione dei vincitori è stata una bellissima sorpresa. Il primo premio va a Claudia Lucia Lamana, da Italia.